Strategie di marketing per i ristoranti Il 2020, anno della diffusione del Covid-19, ha segnato una frattura irreparabile tra passato e futuro. Anche per la ristorazione è stato un periodo davvero complicato, che ha però portato il settore a sposare il mondo del digitale e quello del delivery. Io sono Brandon Kierke e tu stai ascoltando ABC Marketing News, il podcast di InfoMyWeb dedicato a professionisti e aziende che vogliono sfruttare il marketing per incrementare i propri profitti. Se tu gestisci un ristorante, una pizzeria o un locale ristorativo, questo episodio è dedicato a te. I mezzi di comunicazione digitale hanno salvato il settore dei ristoranti. Lo hanno reso innovativo e al passo con i tempi. Internet e social media e le piattaforme di intermediazione come TripAdvisor o The Fork sono ormai strumenti di branding che orientano e determinano le scelte dei consumatori in fatto di food experience. I dati infatti dimostrano che 55 milioni di italiani utilizzano internet per ben 6 ore al giorno, 35 milioni di italiani utilizzano i social media per circa 2 ore al giorno. Per chi pensa che i social siano popolati solo da giovani e giovanissimi, i dati dimostrano il contrario. Se il 42% degli utenti è rappresentato dagli under 34, ben il 58% supera tale età in qualunque piattaforma esaminata. Mangiare, diciamo così, sui social e sul mondo del web è sempre meno un atto di sopravvivenza e sempre più uno stile di vita. A livello sociale il consumo di cibo fuori casa rappresenta ostentazione e condivisione. E a livello psicologico il ristorante rappresenta un momento di emozioni, gioia, intimità. E infine a livello morale sceglione un locale piuttosto che un altro significa sposarne valori, cultura e proposte. La pandemia, la diffusione di nuove tecnologie e l'utilizzo di strumenti digitali sempre più avanzati hanno modificato il modo in cui i consumatori scoprono, valutano, scelgono e si fidelizzano alle attività di ristorazione. Ciò significa che per prosperare anche i business del settore alimentare, dalla pizzeria alla trattoria, dal bistro al ristorante gourmet, devono essere al passo con i tempi e presidiare tutti i mezzi di comunicazione utili per attrarre i nuovi clienti e mantenerli. Vi elenco alcuni comuni errori nel campo della ristorazione. Pensare di non avere bisogno di partner strategici nella definizione di strategie di marketing e comunicazione per costruire un'esperienza di branding memorabile e non focalizzarsi solo sul prodotto finale. Pensare di saper utilizzare efficacemente i social media. Pensare che sia sufficiente il passaparola offline. Non rispondere alle recensioni, ai commenti, ai messaggi online. Non presidiare piattaforme quali i TripAdvisor o The Fork. Non ottimizzare e aggiornare le informazioni del proprio sito web. Oppure non averlo proprio. Vediamo in cosa consiste ciascuno di questi quattro macroerrori e come un partner di marketing e comunicazione digitale può progettare una strategia su misura per ciascuna attività tale da renderla coerente, capace di comunicare e attraente per i nuovi potenziali clienti. Primo posto, veniamo quindi alla definizione di una strategia di branding. Spesso si pensa che per dar vita a un brand sia sufficiente scegliere un logo. In realtà, però, il brand è un'entità più complessa. Una vera e propria prezzonificazione della tua idea di business e di ristorazione. I tre obiettivi strategici da definire sono come valorizzare la tua offerta attraverso le emozioni, in che modo definire la personalità e l'identità del tuo ristorante e come differenziare il tuo locale dagli altri, conferendogli elementi di unicità. Ciò che un partner di marketing può aiutarti a fare è spostare il focus da una mentalità basata sui contenuti razionali e autoreferenziali a contenuti orientati ai bisogni del target e volte a stimolare le loro emozioni, evidenziando in primo piano una personalità unica. Ogni brand rappresenta un modo di essere innovativo, autentico, genuino e coinvolgente. Soprattutto, dopo un periodo di crisi come quello del Covid-19, i consumatori, piuttosto che focalizzarsi su prodotti di fatto disponibili in infinite varietà, vogliono sposare l'idea di un ristoratore, acquisire un'esperienza immersiva che lascia il segno, anche terminato, il pasto stesso. Un ristorante e una pizzeria che costruiscono un brand hanno l'incarico di comunicare valori e messaggi costruendo credibilità e passione. Ogni ristoratore quindi deve avere in mente chi sono i suoi clienti, quali sono le caratteristiche peculiari del brand, quali vantaggi funzionali offrire e quali benefici emozionali donare. Autenticità, relazioni, valori, promesse, emozioni e ideali sono gli aspetti principali di un brand che si manifestano attraverso una serie di codici visivi e testuali. nome, logo, colori, stili, concept, filosofia del business, proposta gastronomica, design, grafica del menu e degli altri elementi distintivi, slogan e frasi tipiche, tono di voce, tipografia, immagini e video, tematiche da trattare e da evitare, brand activism e persone. Passiamo adesso al secondo errore. Molti imprenditori infatti che utilizzano come tutti i social media per scopi personali e di diletto credono di poterli sfruttare in modo vantaggioso per la propria attività anche senza avere conoscenza approfondita del digital marketing. In realtà però non è solo importante esserci ma esserci nel modo giusto. I social sono essenziali e non possono essere utilizzati in modo approssimativo. Usare male un simile strumento di comunicazione può essere non solo inutile in termini di visibilità e crescita ma addirittura dannoso. Ecco perché è consigliabile delegare il servizio ad un'agenzia di comunicazione che sulla base di analisi, competenze e confronti con il cliente progetta e mette in atto una strategia di marketing definita coerente e dettagliata capace di offrire al brand visibilità, crescita e vendite. La comunicazione social è fondamentale sia nelle sue parti scritte divideresti a prenotare un tavolo a un ristoratore che fa errori grammaticali in un post ma anche nei contenuti visivi in particolare immagini e video. Il tema del cibo è prevalente nelle conversazioni che avvengono sui social media in questo momento quindi è bene conoscerle e rendersi autorevole su tali piattaforme persuadendo gli utenti a sposare la propria idea di esperienza alimentare. Un altro errore molto diffuso è voler essere ovunque senza una strategia in realtà è bene selezionare con cura i canali da presidiare e saperli gestire in modo coerente e costante per mostrarti convincente agli utenti che non ti conoscono e che vogliono scoprire la tua filosofia di business. Sui social come Facebook e Instagram infatti non basta pubblicare menu, prodotti e bevande è necessario raccontarsi condividere storie e valori aziendali comunicare l'intera esperienza. Passiamo adesso al terzo errore il passaparola è la forma più antica di pubblicità e ancora oggi è molto efficace la differenza è che si è ormai spostato online. Oggi un cliente che ha vissuto un'esperienza positiva nel tuo locale non solo ne parla con amici e parenti ma condivide molto di più posta una foto, scrive recensioni commenta e offre consigli e descrizioni dettagliate a una potenziale platea infinita di altri utenti. Tutto ciò che viene comunicato online vi resta per sempre e potrà essere letto molteplici volte. Questo è il bello e il brutto delle recensioni. Devono essere osservate e comprese dal ristoratore o da chi si occupa della strategia di marketing e comunicazione per la tua attività in quanto è essenziale monitorare i pareri dei clienti non solo per migliorarsi ma per attirare i nuovi e comprendere i punti di forza e quelli di debolezza del proprio business. Quindi è necessario che ogni feedback ottenuto venga analizzato con attenzione sia esso positivo o negativo come è altrettanto essenziale rispondere a commenti, recensioni e opinioni dei clienti. TripAdvisor e The Fork sono indispensabili a questo fine e influenzano le scelte degli utenti dei quali ben il 76% li utilizza sempre prima di prenotare un pasto fuori casa e al ristorante o in pizzeria. Tali piattaforme rappresentano un'ulteriore occasione di mostrare informazioni, foto e menu. Dunque rispondere a pareri positivi serve a mantenere una relazione con il cliente, a invitarlo a tornare per fidelizzarlo e a mostrare agli utenti l'attenzione che il brand pone nei confronti di ciascuno. Rispondere ai commenti negativi è altrettanto importante. Se da un lato si possono chiarire equivoci e situazioni dall'altro si può gestire il rapporto nel cliente cercando magari di recuperarlo sia mostrandosi dispiaciuti per eventuali inconvenienti sia gestendo le lamentele. Oltre che avere una strategia su tali piattaforme dedicate al confronto tra business e di ristorazione è bene conversare con i clienti anche su Google Business Profile e sui social media. Ripostare foto condivise, rispondere ai direct, gestire le recensioni di Google e mostrarsi sempre attivi. Sono elementi essenziali per mantenere un cliente e per mostrare agli altri utenti quanto le persone siano centrali per il business stesso. Veniamo ora al quarto e ultimo punto. Comunicare bene significa avere maggiori possibilità che le visite virtuali si traducono in visite effettive all'interno dell'attività commerciale di riferimento. Ma sono in molti coloro che ancora pensano di poter fare a meno di un sito web. L'identità fisica di un'azienda è spesso integrata e qualificata da un buon sito e da una gestione buona dei social. Accade spesso che quando si cerca un prodotto la prima cosa che l'utente fa è quella di andare a cercare su Google. Una prassi, un'abitudine che impone attenzione al settore del digital marketing per la ristorazione. Il sito web ha diverse finalità. Rendersi facilmente trovabile, conquistare autorevolezza, approfondire lo storytelling del locale e stimolare la prenotazione. Centrali nel sito sono la pagina di presentazione, quella dei contatti e ovviamente il menu. Uno degli elementi che nel design e negli ingredienti deve rispecchiare la brand identity nel locale. Lo stile generale del sito, oltre a rendere il ristorante trovabile, dà inizio al processo esperienziale che porterà l'utente a prenotare a vivere il momento del pasto da te. In ultimo, ma non per importanza, è bene mantenere attivo un dialogo anche sul proprio sito web. Il blog è uno strumento di comunicazione e condivisione di idee, valori e storie per il proprio pubblico, utile per approfondire temi cari al brand, preparazioni ed esperienze o comunicare novità. Siamo giunti alla fine e ti ringrazio per aver ascoltato questo episodio. Se vuoi inviarci commenti e suggerimenti per ricevere maggiori informazioni o consulenze per migliorare il marketing del tuo locale, scrivici a posta-infomyweb.com Cerca InfoMyWeb su Facebook, Instagram e LinkedIn. Visita il nostro sito www.infomyweb.com o vieni a trovarci presso la nostra sede a Viterbo.